Ciao ragazzi, oggi è il primo maggio Vogliamo accogliere questo mese con un viso luminoso? Andiamo incontro alla luce, nonostante il periodo e la situazione Perciò oggi voglio farvi vedere il soft brush E se state pensando, mattina è sempre detto le spazzoline sul viso No! Aspettate che vi faccia vedere di cosa si tratta A proposito, siete iscritti al canale? Se non lo siete iscrivetevi, date un like, un commento Alziamo questo algoritmo! Così posso fare ancora tanti video e darvi tante informazioni Ma andiamo avanti Cos'è il soft brush? Allora, avete, forse tutte conoscete la maschera night Si mette mezza fiala di maschera night Poi potete aggiungere, se state facendo il trattamento di preparazione Avrete sicuramente le fialettine di ultra bright Perciò potete farlo con mezza fiala di ultra bright Ma così come potete aggiungere qualsiasi siero della linea bisol Quindi prendete un paio di puff o tre del siero fotosynergy Se state utilizzando il siero fotosynergy Oppure del siero redness, se state utilizzando il redness Qualsiasi siero bisol va bene Ovviamente se avete a disposizione più sieri Potete dare al tipo di trattamento soft brush Un'indicazione che voi desiderate Ad esempio, problemi di macchie Volete un colorito più uniforme e luminoso? Sicuramente abbinerete night mask a ultra bright Se avete un po' di difetti di cheratina La pelle è un pochino foto invecchiata Sicuramente le abbinerete a fotosynergy Siete predisposti a infiammazioni Avete la pelle sempre con rossori, capillari Più indicato il redness Ma ora, bando alle ciance Vediamo di cosa si tratta Io nel mio caso, adoro in questo periodo questo trattamento Aggiungo il siero ultra bright Mescolo col pennellino Che ha preso, ecco, la preparazione Il trattamento di preparazione E poi inizio il mio soft brush Faccio tre verso il basso Sentite com'è piacevole Quindi scarico per bene il sistema linfatico E poi dal centro verso l'esterno Dal centro verso l'esterno Dal centro verso l'esterno Provatelo, eh Provatelo perché è veramente Seguite, rilassatevi Fatelo con me E ora mi sposto sul video Parto sempre dal centro Andate dal centro verso l'esterno Andate dal centro verso l'esterno E ora Ora proseguiamo Seguendo sempre queste traiettorie E lasciamo a lunghezza naturale Per essere È importante Che sia proprio lento Ritmato Superficiale Sempre verso l'esterno Verso le orecchie Ed è piacevolissimo Distende tutta la fascia superficiale Dei muscoli Ecco Allora colgo l'occasione per informarvi che Da oggi Da oggi Ci sarà attiva Sarà attiva L'offerta Per la festa della mamma Perciò avrete Su 80 euro di acquisto In omaggio La nostra La nostra Night mask E ancora di più Alle prime 200 Che fanno l'ordine Perché sono rimasti Gli ultimi 200 pennelli Anche il pennellino L'omaggio Alla prossima Alla prossima